Salve a tutti, oggi parliamo dell'associazione umanistica e del counselling aziendale. Vedremo alcune slide in cui spiegheremo come nasce la scuola psicologica umanistica con Carl Rogers e Abraham Maslow e Rollo May e poi vedremo anche che cosa si intende per counselling aziendale e spiegheremo meglio la figura del counsellor. Allora iniziamo col dire che la psicologia umanistica è una scuola sia di psicoterapia sia di counselling che è nata negli Stati Uniti e che considera l'importanza dei rapporti interpersonali. Ora su questa parte qui rispetto ai rapporti interpersonali forse c'è da spiegare un attimo meglio cosa si intende cioè tutte le scuole di psicoterapia o tutti gli ambiti per così dire della psicologia considerano importanti le relazioni e i rapporti interpersonali. Ma nel caso della psicologia umanistica che già dal nome ci fa intendere una volontà ben specifica cioè quella di considerare l'aspetto umano e le relazioni interpersonali la forma di psicoterapia assume un aspetto più specifico basato sull'empatia quindi questa considerazione dell'importanza dei rapporti interpersonali va vista in un'ottica un po' più approfondita rispetto ad altri modelli nel senso che qui i rapporti interpersonali sono basati per quanto riguarda la psicoterapia umanistica all'empatia e quindi al mettersi realmente nei panni dell'altro quindi andiamo a vedere che questi psicologi tra cui abbiamo detto Carl Rogers, Abraham Maslow non credono alle spiegazioni biologiche del comportamento umano perché pensano siano valide solo per gli animali quindi loro nascono in un contesto in cui il modello per esempio comportamentista che andremo a vedere a breve è quello della psicanalisi rappresentavano due scuole di psicologia e psicoterapia molto considerate però sia l'una che l'altra vengono criticate dalla psicologia umanistica proprio per la questione dell'attenzione maggiore che si dovrebbe dare secondo loro ai rapporti interpersonali andiamo a vedere nello specifico si sviluppa negli Stati Uniti attorno agli anni 50 e quindi la critica al comportamentismo da parte della psiogeo umanistica si basa sul fatto che secondo loro il comportamentismo non è adatto a comprendere la complessità e le caratteristiche della natura umana ora il comportamentismo nel nostro corso è un argomento che abbiamo affrontato lo scorso anno nasce dagli studi di un fisiologo che era Ivan Pavlov sui cani e si basava molto sul rapporto nell'apprendimento tra stimolo e risposta quindi Watson che è stato il capo scuola del comportamentismo e Skinner che ha fatto molti esperimenti sul cosiddetto condizionamento operante a differenza del condizionamento classico proposto da Pavlov mostrano forme di apprendimento e modalità che ed è questa la critica alla psiogeo umanistica vengono considerate appunto non adatte perché l'essere umano è più complesso di quello che emerge dagli studi del comportamentismo ricordiamoci ancora e chiudiamo qui che per il comportamentismo la mente è una black box cioè una scatola nera che non si può studiare quindi noi possiamo studiare solo il comportamento manifesto delle persone cioè come emerge in risposta a uno stimolo ecco tutto ciò viene consigliato dalla psiogeo umanistica e da Carl Rogers in particolare elementare non adatto a spiegare la condizione umana quando piuttosto invece è utile a spiegare l'apprendimento più degli animali l'altra critica che dicevamo che la psiogeo umanistica fa è rispetto alla psicanalisi qui il concetto di istinto che poi Freud proporrà anche come concetto di pulsione insomma sono concetti che per Rogers e la sua scuola non tengono in conto e comunque non tengono in considerazione nella maniera corretta aspetti anche qui più complessi dell'essere umano come i bisogni di conoscenza, la creatività e la cultura delle persone cioè questa idea che l'io sia in un certo senso e a tratti schiavo della volontà pulsionale e istintuale dell'ess è parecchio criticata dalla psiogeo umanistica tra i maggiori rappresentanti c'è anche Maslow lo riportiamo perché è uno psicologo umanista che abbiamo studiato anche questo poco tempo fa nel nostro corso ha creato la famosa piramide di Maslow in cui ha indicato in modo gerarchico i bisogni umani da quelli fisiologici a quelli che stanno sulla punta sulla parte più alta della piramide che sono i bisogni di autorregolazione, i bisogni spirituali la prima conferenza di psicologia umanistica si tiene nel 1964 e qui viene presentata per la prima volta una tecnica psicologica nuova chiamata counseling il counseling è una tecnica che esiste anche oggi anche se in modo abbastanza confuso in certi ambiti rispetto alla psicologia, alla psicoterapia ma noi adesso andremo a vedere come nasce il counseling e che cosa si intende nello specifico per questa tecnica secondo la psicologia umanistica la tecnica del counseling quindi si basa sul fatto che tutte le persone hanno in sé le risorse per risolvere i problemi quindi in realtà la questione è non il problema in sé o l'ostacolo che uno può incontrare nella propria vita ma andare a riscoprire tali risorse per superare i problemi quindi questi problemi che non permettono alle persone di fare scelte responsabili corrette si possono superare aiutando la persona a tirar fuori risorse che egli e la già possiede quindi il counseling è una tecnica sia psicologica cioè utile per risolvere i problemi della vita sia per i conflitti nei luoghi di lavoro sia come psicoterapia quindi il counseling così come è stato proposto dalla psicologia umanistica è una metodologia, una tecnica che è anche una forma di psicoterapia laddove serve appunto a rendere le persone consapevole delle proprie risorse delle proprie forze delle proprie capacità di affrontare i problemi andiamo nello specifico visto che noi qui ci occupiamo e ci occuperemo sempre di più di psicologia del lavoro andiamo a vedere il counseling nei luoghi di lavoro ecco cosa dice Rogers all'inizio il counseling venne utilizzato solo così per avere informazioni sui lavoratori da assumere una sorta di lavoro parallelo a quello della selezione del personale che ancora in quegli anni non aveva tecniche raffinate al suo interno quindi inizialmente si utilizzò il counseling per questo tipo di informazioni successivamente questa tecnica è stata migliorata e raffinata laddove si iniziava a studiare l'atteggiamento che le persone avevano verso il lavoro l'atteggiamento che le persone avevano verso il lavoro poi diventa l'importanza dell'aspetto sociale in uno stabilimento industriale rispetto alla sua organizzazione produttiva cioè quindi si va sempre di più a considerare prima le motivazioni delle persone la loro soddisfazione sul luogo di lavoro per poi arrivare all'importanza dell'aspetto sociale adesso vedremo meglio cosa significa questo punto in quanto le relazioni all'interno di uno stabilimento industriale quindi siamo nell'epoca post-industriale dello sviluppo forse massimo delle aziende tradizionali, dell'industria appunto in generale quindi Rogers e la pseudo-umanistica che cosa dicono? che un buon adattamento sociale ed emotivo sul luogo di lavoro è più importante degli aumenti di salario e della riduzione dell'orario di lavoro l'abbiamo visto anche con altri studi motivazionali della scuola delle human relations laddove per esempio Herzberg parlava appunto del fatto che lo stipendio, se vi ricordate bene ha un valore intermedio a livello di soddisfazione cioè qui ci riferiamo al fatto che i rapporti umani ecco l'importanza dei rapporti interpersonali in ambito lavorativo sono più importanti anche di altri cosiddetti premi che vengono dati al lavoratore stesso poi il counseling aziendale in tempi moderni è diventato fondamentale per l'analisi delle motivazioni dei lavoratori nel senso ormai è abbastanza comune l'idea che un lavoratore motivato è un lavoratore più produttivo un lavoratore che ha come dire voglia e si sente realizzato e si sente anche parte di un progetto generale è chiaramente più produttivo di un lavoratore dell'inizio del 900 nella catena di montaggio e dell'epoca del fordismo faccio riferimento ad altri concetti che abbiamo affrontato da poco ultimo argomento da sottolineare è il counselor il counselor è colui che fa counseling nel senso è la figura di consigliere psicologico potremmo tradurre maldestramente in italiano il consigliere psicologico che utilizza tecniche di psicologia umanistica per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone quindi il counselor è quella figura di riferimento che per esempio nell'ambito lavorativo può essere utile per lavorare con i lavoratori appunto con gli impiegati rispetto alla possibilità di utilizzare al meglio quelle potenzialità e quelle risorse che ogni persona ha dentro di sé e quindi in definitiva lavorare anche sull'aspetto motivazionale